Buonasera a tutti per una ricorrenza particolare, il matrimonio d'argento del Baseball Club Sala Vaganza, una serata tutta particolare, in un'atmosfera bellissima, grazie per la vostra partecipazione perché la piazza è così bella, così piena, così viva il nostro paese, la capitale internazionale del baseball giovanile. Saranno giorni di sport, di fatica fisica, di allegria, di amicizia, di buona cucina, di musica, di tutto quello che c'è di più bello e un intero paese parteciperà a questa festa con tutte le famiglie di queste 36 squadre che quest'anno partecipano a questa 25esima edizione. C'è con me come sempre Roberta per gli amici nuovi e vecchi, non italiani, prego Roberta. Welcome to the anniversary of the Sala Vaganza Baseball Club. We are going to be living together the 25th anniversary. As you can see the square is completely full of people, a lot of adherence, a lot of people coming, Sala is present. And from today all the way to Sunday we will be living some beautiful days of dinners, lunches, playing and welcome to you all. Allora 25 anni fa da una scommessa di appassionati del baseball si è arrivati ad una realtà che dopo 25 anni vede un intero paese coinvolto e quindi è una scommessa che direi sicuramente è riuscita. So from a small bed 25 years ago this beautiful club was born. This evening we will be all having a big feast regarding it and obviously we must remember Hermes Fontana, our sponsor. Benissimo, allora 25 anni fa una scommessa ci si incontra, ci si conosce, si scambiano due chiacchiere, nasce la scintilla e... Grazie a tutti. E allora vediamo se questa promessa di matrimonio si consoliderà stasera. Salino, vuoi proseguire il matrimonio con questo paese giurando davanti a cui presente è Sindaco Cristina? Cristina, rappresentante del paese di Sala Vaganza, vuoi proseguire questo matrimonio con il Baseball Club Sala Vaganza giurando al cui presente è Salino? Salino, leggi ora la promessa di matrimonio. Cristina, leggi ora la tua promessa di matrimonio. Io, Cristina, Sindaco di Sala Vaganza, raccolgo tè Salino come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre, sia croccante al forno che lesso con le salsine, sia insaccato che bello magro, senza un filo di grasso. E di accogliere qualsiasi richiesta che il tuo Baseball Club Sala Vaganza mi farà. Ragazzi, fate i bravi e secondo me ve ne siete un po' approfittati questa sera, ma è il venticinquesimo, va bene. E come dice la formula, se qualcuno ha qualcosa da dire lo faccia ora, oppure mai più. Eventualmente si può rivolgere al box della direzione dalle 17 alle 19, da domani a domenica. Salino è il paese di Sala Vaganza, vi dichiaro di nuovo sposi. Salino, puoi baciare Cristina. E come ogni sposa, il bouquet non si sa. E tanta felicità per i prossimi 25 anni. E come ogni sposa, i prossimi 5 anni.